Se vuoi far perdere la testa ad un uomo sposato, il primo passo è comunque fare un esame di realtà. Fare un esame di realtà significa rendersi conto che se un uomo sposato viene con te, non è detto che non è più interessata la moglie, non è detto che le cose con la moglie vadano male, non è detto che lascerà la moglie, insomma tutte queste cose che magari ti raccontano, non è detto che non va più a letto con la moglie, magari ci andrà sicuramente poco, perché se è sposato da tanto tempo questo è una cosa naturale, che cade naturalmente. Però questo non significa che non abbia impegni con la moglie, quindi tieni presente che se lui è sposato e viene con te, tu rappresenti diciamo un appagamento alle sue esigenze trasgressive. Tieni presente anche un'altra cosa, che se è sposato e viene con te, non significa che non vada anche con altre donne. Perché poi succede questo, che le amanti non sono gelose della moglie, ma sono gelose delle altre amanti. E questa cosa qua è una cosa ridicola da un certo punto di vista. Quindi se tu vuoi fargli perdere la testa devi partire da questo presupposto, dopodiché devi fargli sentire in qualche modo che appaghi le sue esigenze emotive, le sue esigenze emozionali, perché questo è l'unico modo per far perdere la testa a una persona. Intanto vediamo però che cosa non fare. La cosa da non fare è contrapporti alla moglie, oppure fargli scenati di gelosia come se tu fossi una moglie. Perché nel momento in cui tu vai a dire, ad esempio, ah dove vai, cosa fai, ma perché esci, ma chi è quella, ma chi è quell'altra, vai a ricalcare il ruolo della moglie e quindi assumi, diciamo, un ruolo istituzionale. E siccome lui, la persona istituzionale, ce l'ha già a casa, non ha sicuramente voglia di avere un'altra. Quindi ti vai a scontrare direttamente, sei un canotto che va a scontrarsi contro una porta aerei. Quindi il punto fondamentale è evitare, diciamo, di scontrarsi con la moglie, primo punto. E il secondo punto fondamentale è quello di agganciare le sue istanze emotive, le sue esigenze emotive, perché tutte le persone hanno delle esigenze emotive. E come fai a capire, diciamo, quali sono le esigenze emotive che ha una persona? Beh, intanto, diciamo, il fatto che se lui ha a te come amante, sicuramente in qualche modo avrà una distonia, una, diciamo, un problema comunque di sessualità non appagata all'interno del matrimonio, di trasgressione non appagata all'interno del matrimonio. Questo generalmente può anche a livello inconscio, inconsapevole, generare quelli che sono dei sensi di colpo. Quindi, paradossalmente, dovresti iniziare ad amplificare questi sensi di colpo e fare un po', diciamo, come dire, il grillo parlante da questo punto di vista, che apparentemente sei in bistituzionale, ma di fatto gli va a amplificare delle emozioni. Eh, certo che tua moglie, povera donna, se lei, diciamo, sapesse che ha tutte queste corna, chissà come si comporterebbe nei tuoi confronti, chissà quante te ne farebbe a te. E vai anche a stuzzicare e a infilare dentro, diciamo, un po', il dubbio che anche la moglie possa tradire. La paura anche che la moglie possa scoprire, quindi possa... Sono tutte emozioni che appare... Di solito le persone non mettono in atto, anzi, si tengono a distanza, diciamo, dal generale a questo tipo di emotività, eppure è un'emotività che va a coinvolgere molto l'uomo sposato. Inizia a dare emotività, inizia a vivere pato. Certo che tua moglie, se appena scopri che sei sposato, ti farà avere una lettera dall'avvocato e chissà quanti soldi ti frega, appena scopri che gli fai le corna, chissà quanti soldi ti frega. E certo che tua moglie è una tipa medicativa, secondo me non ti farà più vedere i tuoi figli se scopri che lo tradisci. Insomma, andare a alimentare in questo modo... D'altra parte lui inizia anche a avere paura del fatto che tu magari in qualche modo ti possa deliberatamente farti scoprire dalla moglie. Per cui questa, diciamo, frammisto di emotività, intanto lo spingerà ad allontanarsi dalle altre amanti. Ti vedrà sicuramente in un modo diverso. E ovviamente tu non devi dire assolutamente nulla di più, non è che devi dire adesso vado a dire la tua moglie che... perché in quel modo lì allora si allontanerà. Ma semplicemente molto, molto, molto alla lontana lasciare gonfiare questo tipo di emotività. In questo modo inizi ad avere potenziale e perlomeno diventerai l'amante prediletta, diciamo così, l'amante numero uno. Poi da lì a fargli lasciare la moglie bisogna che inizi, diciamo, se vuoi, a ricoprire poi gradualmente anche un ruolo istituzionale. Però secondo me non è conveniente per te fargli lasciare la moglie, perché poi ti vai a prendere tutte le pattugne. Quindi molto meglio un amante sposato, ma coinvolto però, in questo caso, con te. E questo è il modo per coinvolgerlo. Poi, nel momento in cui è coinvolto, per fargli perdere definitivamente la testa, è meglio che inizi a inserire degli antagonisti. Sia degli antagonisti tuoi, sia degli antagonisti verso la moglie. In modo tale che, diciamo, lui venga destabilizzato da questo punto di vista. Nel momento in cui non è più sicuro che la moglie sia così, di una Santa Maria Goretti fedele, e nel momento in cui capisce nello stesso tempo che ci sono però degli antagonisti che potrebbero portare via anche te, quindi alla fine rischia di trovarsi cornuto e ammazziato, inizierà a vederti in modo diverso, a desiderare di possederti, a desiderare di conquistarti, da quel momento lì inizierà a perdere la testa per te. Se tu sai cavalcare bene questo, riuscirai a coinvolgerlo molto, molto, in modo molto, molto, molto profondo. Bene, per questo video è tutto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale e seguimi sul blog seduzionervip.com. Ciao!